Una carta Scheller, 150 grammi, un po' ruvida. Per il pennello secco, soprattutto. Abbiamo visto dalla sceneggiatura, sono due personaggi che parlano. Sì, il comandante del forte è Tex. Il Tex parla per primo, quindi... Il Tex parla per primo, quindi sta alla sinistra. Allora sinistra. Allora sinistra. Allora sinistra. Questo metodo così, senza costruzione sotto direttamente, quando sei arrivato a farlo? A usare un metodo così direttamente? Siempre. Siempre? Sì. Sì. Sì, sì, sì. 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 perché in questo caso i protagonisti sono i personaggi. esattamente. Esattamente. Ci sono scene in cui invece disegni prima... il fondo generalmente lo disegno dopo lo personaggio. Anche nei campi lunghi? Sì. 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 Perfetto. Non voglio che tu faccia tutta la tavola. Sì. Sì.